Prepariamo insieme le pucce salentine con le olive. Vi lascio la ricetta perfetta per realizzare in casa uno dei simboli della gastronomia e della tradizione salentina e pugliese. Iniziamo ad impastare. Quindi, in ciotola, semola rimacinata, farina e mescolate. Aggiungete il lievito, io sto utilizzando il lievito disidratato, ma va benissimo anche quello fresco, il miele, il malto o lo zucchero. Iniziate ad impastare aggiungendo acqua a temperatura ambiente, poca alla volta. Mescolate e aggiungete acqua. Aggiungete alla fine il sale. Ancora dell'acqua e mescolate ancora. A fine impasto aggiungete anche 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. E 3. Mescolate ancora fino a quando non sarà del tutto assorbito. Ecco, così. A questo punto coprite con un panno o con della pellicola trasparente e lasciate riposare per 30 minuti. Nel frattempo denocciolate le olive. Eccole qui. Aggiungete anche le olive nere. Infarinatele con un cucchiaio di semola rimacinata. Mescolate bene per ricoprirle tutte. Trascorso il tempo di riposo riprendete l'impasto. Trasferitelo sul piano di lavoro aggiungendo abbondante semola rimacinata. A questo punto aggiungiamo le olive. E nello stesso tempo facciamo delle pieghe di rinforzo. Quindi olive e pieghe. Ancora olive. E ripieghiamo l'impasto su se stesso. Prima da destra verso sinistra e poi da sinistra verso destra. Poi dal basso verso l'alto. E così fino ad aggiungere tutte le olive. Così diamo forza all'impasto. E abbiamo realizzato un panetto senza troppo sforzo. Quindi ripiegate per l'ultima volta. Arrotondate l'impasto. E trasferitelo in una ciotola unta di olio. Così. Coprite con pellicola trasparente. E lasciate lievitare fino al raddoppio. Una volta raddoppiato si presenterà così. Trasferitelo di nuovo sul piano di lavoro con abbondante semola. Guardate che bello. Stendetelo delicatamente senza sgonfiarlo. E ricavate un rettangolo. Ancora semola. Con l'aiuto di un tarocco ricavate nove o più bucce. Quella era troppo grande e quindi l'ho ridotta. A questo punto arrotondatela senza lavorarla troppo. Delicatamente. Piegatela su se stessa e arrotondatela. Come vedete è molto semplice. L'importante è aggiungere tanta semola. Arrotondate e trasferite sul piano di lavoro con la semola. Trasferite le pucce nella semola ancora. E quindi su una teglia ricoperta di carta forno. La caratteristica delle pucce salentine è proprio quella di essere ricoperta di semola. Ricoperte tutte le pucce con la semola le trasferiamo sulla teglia. E le lasciamo riposare per una mezz'oretta. D'inverno anche un'ora. Nel frattempo accendiamo il forno a 200 gradi. Statico ventilato andrà benissimo. Inforniamo le pucce per i primi 10 minuti a 200 gradi. E poi a 180 gradi fino a fine cottura. Per altri 20-25 minuti circa. Fino a quando non risulteranno ben dorate e leggere. Ed ecco le nostre pucce pronte. Croccantissime. Sono belle vero? Bene. Adesso le conserviamo. Pronte per essere servite a pranzo a cena o a merenda. Grazie di aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao! Ciao!